Cezo Sarno, ci hai preso gusto a decidere i derby su punizione, dopo Lecce e adesso questo gol contro il Barletto? Sì, diciamo di sì, sono molto contento per il gol, ma soprattutto di aver deciso un derby per i nostri tifosi, per i miei compagni foggiani e per tutto il gruppo. A proposito di Lecce, quanto rimpianto c'hai per non aver giocato quella partita a Via del Mare? 3-4 minuti che non ho dormito sicuramente, però fa parte del calcio, comunque tanto. Oggi invece vi siete anche scambiati particolarmente nel tridente, sia con Cavallaro che con Iemmello, vi scambiavate la posizione? Sì, il mister ci chiede questo e ultimamente lo stiamo facendo un po' di più, è una cosa che lavoriamo in settimane e che ci chiede il mister. Manca solo una partita alla fine della stagione, qual è il bilancio di Vincenzo Sarno? Potrei dire che sono contento a livello personale, però deluso tra virgolette da un raggiungimento dei play-off, perché Foggia lo meritava, questo gruppo lo meritava e tutto lo staff lo meritava.